Fiera di Levante, siamo lo stand di Fonditalia presso la BPA24. E qui con me Stefano Rumanazzi, presidente di FEDER Terziario Bari, benvenuti Stefano. Stefano, che impressione e cosa significa avere oggi Fonditalia presente qui nella tua città? Allora, sì, come associazione materiale FEDER Terziario Bari, noi utilizziamo lo strumento di Fonditalia, la formazione che riesce a narci Fonditalia, tantissimo. Ormai sono oltre dieci anni che utilizziamo lo strumento di Fonditalia perché pensiamo che la formazione in qualsiasi settore, ma soprattutto nel settore del turismo, sia veramente importante e fondamentale. Che tipologie di aziende solitamente qui nel Varese utilizzano Fonditalia? Allora, le aziende come numero di dipendenti sono su piccole e micro imprese. Le aziende abbiamo una media di dieci dipendenti, le aziende partono anche da uno fino a dieci dipendenti. Con Fonditalia, con lo strumento Fonditalia, riusciamo a formare tranquillamente questo numero di dipendenti, sia facendo progetti con singola impresa, anche facendo progetti con più imprese insieme. E i tempi di risposta di Fonditalia sono veloci? Assolutamente sì, sono velocissimi e per questo che le aziende hanno subito risposta, hanno subito fare fatto.